Buongiorno! Lo so, questo vlog incomincia in maniera un po' strana e diversa dal solito, ma in realtà sarà un video diverso dal solito. Siamo già a mercoledì, non ho filmato la settimana dall'inizio perché ho avuto veramente tante cose da fare, adesso vi spiegherò anche il perché. Ci sono delle grandi novità qua a casa, per cui mi sono dovuta un attimo assestare, in realtà ancora devo ritrovare un po' la routine, i ritmi e diciamo un equilibrio perché non sono più sola in casa. Ora che mio marito viviamo una situazione abbastanza stabile, ci è permesso sognare e realizzare alcuni di questi sogni e concretizzare alcuni progetti che avevamo e che in passato non potevamo appunto mettere a punto perché sapevamo di essere in situazioni molto temporane, di dover prendere le giornate un po' così, di non poterci effettivamente stabilire o fare certi passi, come ad esempio quella di adottare un gatto. Dovete sapere che è da ottobre che ci siamo messi attivamente alla ricerca di un gatto, ne avevamo in realtà trovato anche uno per cui avevo già comprato tutto, poi, vabbè, non ho molto piacere di parlarne, è successo quello che è successo, non pensavo che sarebbe stato così difficile trovare un gatto da adottare, devo essere sincera, contate che appunto abbiamo iniziato a cercare ottobre e siamo riusciti a realizzare questo sogno soltanto adesso. Comunque vabbè, non è questo l'importante, fatto sta che appunto ho avuto un'esperienza non troppo felice, ma è il risultato finale quello che conta, da poco meno di una settimana appunto abbiamo un nuovo inquilino in casa. Devo dire che io non avevo richieste particolari, non mi interessava che fosse un cucciolo, ma anzi in realtà i primi gatti che avevo addocchiato erano adulti, avevano uno o due anni, piccolo intruso, mi ha proprio fatto molto piacere adottare un gatto rosso per una questione molto sentimentale, però di nuovo non avevamo in realtà delle esigenze particolari, quindi proprio per questo sono rimasta molto stupita dalla difficoltà di trovare un gatto da adottare. Piccola peste! Non fate caso per favore al bruttissimo copridivano che ho dovuto mettere, ma voglio preservare il divano nuovo ancora per un po'. Eccolo qua il discolo, sta ancora finendo di esplorare casa, oggi siamo passati alla camera da letto e ovviamente ha scoperto che il letto è soffice, e quindi che c'è? Il letto è soffice, la maglia della mamma pure, mamma mia non posso più mettere le maglie belle con lui. Super super discolo, deve esplorare tutti i passaggi di casa. Mi piace un sacco farsi le unghie sulle gambe della mamma, solo su di me. Ha un manto veramente bellissimo, infatti quando ho visto la foto non volevo innamorarmene, viste le esperienze passate. Diciamo che non mi sono occupata molto della questione pratica dell'adozione, perché viste le precedenti esperienze, visto quanto stavo male, se ne è occupato principalmente mio marito. E' lui che effettivamente ha trovato e portato a casa questo questo gattino, quindi è proprio sonnelloso. Salve, 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 che musettino che abbiamo, che bel musettino sonnato. Lui quindi è tachi, ha circa tre mesi e mezzo, quindi è ancora un po' cucciolo, vuole sempre giocare, esplorare, e devo dire che è sì una piccola peste, però devo riconoscere che è abbastanza bravo, perché a parte la prima sera, che giustamente si è messo a meagolare come un ossesso, la sera è molto calma, dorme come dormiamo noi, non viene in camera, anche se lasciamo la porta succhiusa, rimane sempre qua, nei suoi spazi. Ovviamente ci sono delle zone della casa che ancora deve finire di esplorare. Ma lei sei un discolo, sei un discolo! E sì, gli piace molto giocare, io ho le mani distrutte, però ci sta, è un cucciolino, quindi cerco di giocare con lui, di farlo stancare un po' nel pomeriggio, e le ultime sere è stato molto bravo, molto tranquillo. Gli piace graffiarmi e mordermi, ma solo a me poi, che si vede che è quella con cui passa più tempo e ha più, tra virgolette, confidenza. Sta molto addosso, nel senso che quando sono seduta a tavola o sul divano, viene sempre su di me. Non so se per affetto, semplicemente, perché, boh, gli va così, comunque non lo sto sforzando a fare assolutamente nulla, anzi. Però mi sembra che si stia già ambientando abbastanza bene. Io ancora mi devo abituare, vero? Salve! Discolino, cosa c'è? Cosa c'è, discolino? Ha degli occhi bellissimi, verdi, adesso glieli devo finire di pulire un po'. Cosa hai visto? Cosa hai visto? Eh? E sei venuto qua in braccio, cosa c'è? Impigli in qualsiasi cosa, devi farti le unghiette. Fa un sacco sorridere come venga sempre così addosso, anche quando lavoro al computer, viene sempre in grembo. Quando mangio, a volte sì, a volte no, per fortuna. Ho paura quando diventerà grande che salterà sulla cucina per adesso. Sta solo curiosando perché chiaramente non ci arriva. Avere un gatto in casa, soprattutto così piccolo e sempre in casa, è una cosa piuttosto nuova per me perché gli altri miei gatti sono comunque cresciuti in campagna, anche se non da subito sono usciti all'aperto. Avevano comunque dello spazio fuori su cui sfogarsi, diciamo, gli alberi su cui fare le unghie. È un grande spazio dove poter giocare, correre. Qua invece siamo da soli in appartamento, quindi devo cercare di gestirmi un po' questa cosa. Quindi ci sono delle cose nuove anche per me, nonostante io abbia sempre fissuto con dei gatti. Però ecco, man mano che passano i giorni sono sempre più innamorata e sempre meno preoccupata di come gestire il tutto. Certo, devo ancora trovare in realtà una vera e propria routine, devo riconquistarmi, diciamo, i miei spazi, i miei tempi. Però ci sta alla fine qua con noi soltanto da una settimana, quindi dobbiamo ambientarci tutti e due alla fine. È stato difficile scegliere il nome perché ce n'erano tanti che ci piacevano, tra cui ad esempio taco, polpo da takoyaki. Non so che è forse un po' strano, però a me piacciono un sacco i nomi che hanno a che fare con il cibo. Alla fine abbiamo scelto per Taki da Your Name, uno dei protagonisti. È un film che a noi è piaciuto molto. Tra l'altro stavo pensando in questi giorni al fatto che il 14 febbraio del 2017 ho visto per la prima volta Your Name con mio marito. Io ero già in precedenza andata al cinema a vederlo, però era la prima volta per lui. E niente, prossima settimana è il 14 febbraio, quindi una bella coincidenza. Altra cosa che ha a che fare col 14, il 14 ottobre del 2019 siamo tornati al cinema a vedere un nuovo film di Makoto Shinkai, Weathering With You. E quella sera mio marito mi ha fatto la proposta di matrimonio. Quindi diciamo che siamo molto legati sentimentalmente anche a Makoto Shinkai e qual è il miglior dono che è avere Taki nelle nostre vite in questo momento. È stata una settimana molto tachicentrica, quindi in realtà non ho filmato altro questa settimana. Non ho veramente avuto tempo, si sono cavallati poi anche dei lavori oltre a tutte le cose da fare per il gatto. Sta ronfando, io adoro quando i gatti fanno le fusa così sonore. E Taki, sei contento di essere qua con noi? Oggi sono sette giorni esatti che è qui con noi. Non siamo poi così male come famiglia, vero? Siamo piccolini, però no, ti vogliamo già tanto bene, eh? Ho già addocchiato un sacco di diavolerie che mi piacerebbe prendere per il gatto. Ecco. Amore, cucciolino. Quando si ha ciambella sembra così piccolo e quando invece gioca a fare le marachelle sembra che sia già cresciuto in una settimana. Io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi abbia fatto piacere incontrare virtualmente un nuovo membro della nostra famiglia. Io sono già innamorata persa, e sì, sono già innamorata persa di Taki. E nulla, ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao!